ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco lipiol gel detergente a cosa serve lipiol gel detergente a un parafarmaco appartenente alla categoria degli detergenti e saponi corpo è commercializzato in italia dall'azienda galenia biotecnologie srl informazioni commerciali titolare galenia biotecnologie srl concessionario galenia biotecnologie srl categoria di appartenenza detergenti e saponi corpo forma farmaceutica gel confezioni lipiol gel detergente gel detergente corpo barra capelli 500 ml indicazioni uso frequente per la pelle secca e disidratata anche a tendenza atopica dona sollievo e morbidezza alla pelle sensibile aiuta a mantenere pelle e capelli sani detersione delicata per tutta la famiglia modalità d'uso massaggia sulla pelle e sui capelli bagnati fino a formare una schiuma densa risciacqua con cura descrizione e caratteristiche gel detergente corpo barra capelli per il bagno e la doccia linea pelle secca e sensibile uso frequente nutriente protettivo formula lenitiva lava con delicatezza senza irritare grazie alla ricchezza di sostanze nutrienti e protettive e alla tollerabilità delle base lavante efficace complemento igienico sulla pelle caratterizzata da secchezza desquamazione intensa disidratazione formulato senza profumo senza sls senza conservanti nickel tested dermatologicamente testato avvertenze validità del prodotto 36 mesi validità del prodotto dopo apertura 12 mesi conservare a temperatura ambiente componenti e ingredienti olio di oliva olio di avocado glicerina pantenolo niacinamide fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato